Sette auto in sosta sono state danneggiate nella notte in via Alberoni da tre persone vestite di scuro, notate da alcuni cittadini che hanno immediatamente chiamato il 113. All'arrivo della volante i tre hanno lanciato qualcosa sotto una ventura. Per gli agenti non è stato difficile trovare l'oggetto, si trattava di un'accetta. Le persone sono state identificate, si tratta di un torinese di 35 anni, un pavese di 25 e un polacco di 17, tutti residenti a Piacenza. Per i poliziotti non è stato possibile appurare con certezza che i tre, fermati quasi un'ora dopo la segnalazione, fossero effettivamente gli autori dei vandalismi. Sono stati quindi denunciati solo per porto di oggetti da offesa. Nell'ambito di controlli del territorio volti a prevenire episodi di criminalità e incidenti stradali, i carabinieri hanno denunciato quattro persone. Si tratta di un 24enne sorpreso alla guida di una moto senza patente, un 25enne romeno alla guida di un'auto con l'assicurazione contraffatta, un 46enne di Gossolengo e un trentenne del Burkina Faso per guida senza patente e porto abusivo di oggetti atti all'offesa. Grazie. 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 Grazie.